Sì, fiero, amico mio. Amelie ti sta ancora aspettando a Ovest. Sali sulla tua barca. È pronta. Porta quelle provviste a Lake Not City. Abbiamo appena cominciato. Alla prossima. Allora ce l'hai fatta? Non è facile spezzarmi, nonostante il mio nome. L'hai visto anche tu, quello stronzo, eh? Higgs è il leader di un gruppo separatista. Mi sembrava fosse lui a controllare quella CA. È un livello 7, direi. Più alto, forse. Sai molte cose su di lui. Lavoravamo insieme. Diciamo che avevamo un contratto. Collaboravi con i terroristi? Con chiunque paga, eh? Non è l'ora. Da che parte stai? Vuoi salvare il mondo o mandarlo a puttane come lui? Vorrei solo... Vorrei solo che le cose fossero diverse, chiaro? Ecco la nave. Tranquillo, ci rimane a galla. Andiamo, siamo gli ultimi da caricare. Anche! Anche quando si esi notima. Anche adesso to cookies! Dovremo arrivare domani. Dovremo arrivare domani. Io te l'avevo detto, Sam. Il passato non ti abbandonerà. Ascolta, devo chiederti una cosa. E riguarda quel pastardo, X. Il passato non ti abbandonerà. Sede. Sede. Te lo ricordi? Sede. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Benvenuto. Abbiamo seguito la tua nave. Non ti voglio scocciare ma devo chiedertelo. Tutto quello che trasporti è a posto. Niente di pericoloso o illecito. Ti avranno già controllato quando sei entrato ma voglio dare un'altra occhiata. Tutto a posto. Non rilevo nulla del solito. Il carico è perfetto. Questa roba non la vediamo da un po'. Scusa il disturbo. Non si è mai troppo prudenti. Si dice che tu abbia un cupid. È vero? Puoi collegarci. Quindi siamo finalmente in reddito. Era ora. Non tratterremo alcun dato. Capital Nuts City saprà tutto. Se condividere i dati fa sentire tutti più al sicuro, io ci sto. E stai certo che non sono l'unico a pensarla così. Andava meglio quando la Bridges 1 arrivò la prima volta. Non ricordo terroristi e CA che ci rendevano la vita difficile allora. Fa attenzione là fuori. Il mondo non è quello di un tempo. E grazie. Hai superato Gran Zero, Sam. Congratulazioni. E grazie. Da qui in poi sarà più dura. Durante la prima spedizione era diverso. C'era la pace. Le tre città, Lake, Middle e South North, appoggiavano tutti i nostri piani di ricostruzione. La Fragile Express era stata ingaggiata da tutte e tre per trasportare propiste e collegare persone. Ma tutto questo è cambiato un anno fa, quando i separatisti hanno sperrato gli attacchi. Hanno distrutto Middle Nuts City. Hanno fatto detonare vecchie bombe atomiche. Metà di South North City è saltata in aria. Perdite devastanti. La Bridges non ha le risorse per collegare da sola le città rivalenti. Dobbiamo assicurarci il supporto di tutti. Anche di chi non vuole avere a che fare con l'Euka. Per quanto sembra impossibile. La situazione è cambiata drasticamente da quando la Bridges 1 andò a ovest. La distruzione di Middle North in particolare ci ha fatto adottare una nuova strategia. E come ha detto Amelie, non abbiamo il tempo o le risorse per costruire un altro nodo di quelle dimensioni. Per questo abbiamo stretto accordi con gente come i Brebber. La nostra unica opzione è usare i loro rifugi per rinforzare la rete. Bisogna essere persone speciali per vivere qui da soli. Del tipo che se ne frega di unirsi a l'Euka. Oh, lo sappiamo. Nessuno si aspetta che dicano subito di sì. Ma anche se non amano avere a che fare con gli altri, con la Fragile Express, vanno d'accordo. Vuoi che usiamo la sua reputazione per entrare nelle loro grazie? Bingo! Anche lei è d'accordo. In cambio, lei cosa ottiene? Niente, in realtà. Potersi vendicare di X, immagino. E non posso certo biasimarla. Mi ha tolto tutto quello che aveva. Il tempo cura alcune ferite, ma non le sue. Il lavoro che ci aspetta non sarà semplice, ma è necessario. Ora riposati. Parleremo ancora dopo. Il lavoro che ci aspetta non sarà semplice, ma è necessario. Τi tolto il Giorno. Tieni Per me? Si chiama Kipu Vuol dire nodo in lingua antica Si può usare anche per contare Fatti un nodo per ogni nuovo amico Ok Allora che ne dici se ne faccio uno? Ogni volta che ci vediamo Questo deve essere molto importante per te Se l'hai portato fin qui È molto speciale È speciale, l'ho fatto per te Lo porterò sempre con me Ti va uno spuntino? Che cosa ci fai qui? Perché non lo chiedi al tuo capo? No Voglio dire qui dentro Ho una consegna per un corriere Questo ti sarà utile per il viaggio Servirà a identificarti come membro della Fragile Express È fatto con il mio sangue e i cristalli chirali È un segno del legame con me I prepper della zona non ti daranno fastidio Se vedranno che lo indossi Eravamo gli unici a fare consegne da queste parti Era il nostro territorio Finché X ha rovinato tutto Me La Express La nostra reputazione Tutto quanto E ora vuoi fargliela pagare? Tu da sola? Non sono da sola La grotta Portnott City Accanto al tuo letto Così lontani eppure continuiamo a incontrarci Ho attraversato il territorio delle CIA Rischiando di finire in una voragine Eppure sono qui Sono qui Tu puoi usare la spiaggia Io ho una spiaggia Tu hai la tua Io ho la mia La uso per saltare nello spazio Non posso far apparire le CIA come X Ma posso inseguirlo Bloccarlo sulla spiaggia Il problema è che ognuno vi accede a modo suo Posso passare solo da spiagge che conosco e che comprendo Conosci sicuramente il termine multiverso Ti senti bene? I salti mi prosciugano energia Mi consumano il sangue Tu devi andare a Hedgenot City, giusto? Laggiù è pieno di terroristi Ma se devi andarci per forza Prima o poi ti capiterà di avere a che fare con X Senti Io mi occupo di consegne Ammazzare mostri e terroristi Non è roba per me E se lo facessimo insieme? Userei il mio potere per aiutarti Si sta dalla stessa parte anche senza lo stesso fine Potrei inviarti io dalla mia spiaggia Ovunque ci sia abbastanza chiralium Qualsiasi posto connesso alla rete chirale E cos'è che ti aspetti in cambio? Mi aspetto che tu ci rifletta su Tieni Consideralo un incentivo Chiama se hai bisogno di me Con questo saremo collegati Ci vediamo in giro Bibi 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 Mi senti? Mi senti? Sono papà Sam Accedi al terminale delle consegne di Lake Noxin Saranno bloccate Sam Ricapitolando Il tuo obiettivo attuale È estendere la rete chirale Da Lake Noxin A South Noxin Per questo motivo Dovrai utilizzare i rifugi Come stazioni secondarie Sinceramente non sarà facile Fra Già l'ha provato a convincerli Ma lo sai come sono fatti i grebber Molti non vogliono avere niente a che fare con le Uka Quindi dobbiamo dimostrare loro Che è meglio che stiano con noi Capire di cosa hanno bisogno Cosa possiamo dargli E darglielo Fallo E potrebbero consentire a unirsi a noi Ok Tatti da fare L'elenco degli ordini è sul terminale Ordini assegnato Stai attraversando il territorio dei muvi Muoviti in silenzio e alla svelta Non devi farti vedere O prendere Che tristezza I loro genitori erano corrieri come te E rischiavano la vita per riunire il nostro paese E ora i loro sciagurati figli portano avanti questo lavoro senza comprenderne il significato Per loro la consegna È un rituale Una specie di droga E ti cercheranno sempre per averne un'altra dose Che c'è No, no, no. No, no, no. No, no, no. Avrei sentito dire che aiutava i terroristi, che non le interessava chi si faceva male. Tutte stronzate per me. Lei e i suoi rischiavano la vita per portarci il necessario. È un'eroina, non c'è dubbio. Ascolta, io sono nato in questo rifugio. L'unico mondo che conosco è tra queste mura. Quando la gente parla di America, non riesco neanche a immaginarla. Ma se quel cupid mi collegherà a tutti gli altri, diventerà reale. Quindi sì. Voglio unirmi alle Uka. Voglio vedere cosa mi sono perso. Allora. Allora. E così? La mia stampante 3D autonoma può gestire la stampa chirale. Ammesso che funzioni, l'unità BioEvo dovrebbe permettermi di replicare tutti gli oggetti archiviati. Possiamo ricostruire l'America un pezzo alla volta. Nel frattempo posso usare la rete per vedere cosa succede nelle città, rilevare l'attività di muli e terroristi. È come se mi avessi portato il mondo intero in quel pacchetto. Grazie, Sam. Facciamo ancora affari insieme. Oh sì? Ho qualcosa che vorrei farti provare. Un'unità ausiliaria che ho sviluppato io stesso. Funziona perfettamente nelle simulazioni, ma ho bisogno che qualcuno la provi sul campo. E se dovesse anche aiutarti, tanto meglio. Grazie di cuore. Torna presto. Ben fatto. Nuovo ordine disponibile. Accedi al terminale delle consegne per un tempo. Bene. La stazione secondaria è pronta. Ne mancano due. E se non poteva. Sì. Sì. Oh, sì. Ci voleva. Bello caldo. Non sei della Fragile Express, vero? Ah, capisco. La Bridges usa i loro ID per completare la consegna. Beh, ottimo lavoro, figlio. Questo lo prendo io. Il pacco sembra... ...nuovissimo. Wow. Da un po' non vedevo un carico in così buone condizioni. Grazie di cuore. So che non è stato facile. Ma qual è il tuo ruolo? Si sa che Fragile era dietro all'attacco che ha distrutto Middle North City. Solo un idiota fiderebbe le spedizioni a quella terrorista ora. Ma eccoti qui, a sostituirla. Mandi avanti gli affari al posto suo, giusto? Non ci si può fidare di nessuno ormai. Non cercare di convincermi a unirmi alla tua rete. Lo sai perché ci sono stati tanti attacchi terroristici? Perché avete fatto incazzare i terroristi con la storia della riunificazione. Unirmi alle UCA, tanto vale che dipinga un bersaglio sul mio rifugio. Continuo a consegnarmi la roba e andremo d'accordo. Non voglio guai. Però devo dire che mi piacciono queste tue granate ematiche. La qualità è ottima, devo ammetterlo. Le UCA dovrebbero condividere questo tipo di attrezzatura. Dopotutto da queste parti ci sono un sacco di corrieri improprio. Se ne avessi una caterva, potrei rifornire tutta quella brava gente. Sei una brava persona, questo lo vedo. E hai consegnato un ordine come ti ho chiesto. Ma non è abbastanza per fare quello che mi stai chiedendo. La rete chirale è un grande passo. Ma se potessi dimostrarmi che la Brigis è un'organizzazione di cui posso fidarmi... Sai che ti dico? Fai un'altra consegna per me. Ti metto i dettagli su questo terminale. Ben fatto. Nuovo ordine disponibile. Accedi al terminale delle consegne per ulteriori informazioni. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.